Maserati Levante e Maserati Quattroporte, l'ultima arrivata all'interno della famiglia del prestigioso brand italiano e la capostipite. Due vetture che nell'allestimento Grand Sport trovano il connubio perfetto tra sportività e prestazioni. Nonostante in molti punti in comune, queste due vetture si differenziano principalmente per le maggiori capacità di carico a favore del Levante, che è così in grado di adattarsi meglio ad un contesto familiare, garantendo comfort e sicurezza in condizioni invernali o di sterrato senza alcuno sforzo. La Quattroporte è invece delegata più spesso ad auto di rappresentanza condotta da autisti, per le sue doti di lusso ed eleganza inconfondibili. Grazie al passo lungo garantisce spazio in abbondanza per chi siede sul divano posteriore, adatto principalmente per due ospiti. Due vetture che dominano in segmenti diversi, grazie anche al propulsore che le muove. Il V6 biturbo da 3 litri, realizzato in collaborazione con Ferrari, scarica la potenza di 430 CV e 580 Nm di coppia grazie alla trazione integrale Q4. Lo scatto da fermo è davvero sportive ed è accompagnato dalla costante sinfonia di questo propulsore incredibile. Le vetture nell'allestimento Grand Sport mostrano il loro lato più sportivo, caratterizzandosi per i numerosi dettagli in nero ed un disegno più aggressivo del paraurti. Nell'abitacolo, però, il lusso è garantito. Grazie al sistema di scarico con valvole integrate, è possibile viaggiare in pieno silenzio quando lo si desidera, per poi tornare a farsi cullare dal ruggito del V6 quando la strada si fa più divertente. Ammiraglia o SUV, berlina o sport utility vehicle, a voi la scelta, il lusso è assicurato. Grazie a tutti.